signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e andiamo avanti ancora questa settimana a parlare del gruppo dei personaggi giocanti che poi è il centro di ogni gioco nel corso degli anni di vita del canale molte persone mi hanno fatto anche se con parole diverse grosso modo la stessa domanda cioè qual è il modo migliore per mettere insieme il party fare in modo che tutti i personaggi giocanti si incontrino e poi procedano in maniera coerente con la quest in modo da fare andare tutto il più liscio possibile e finalmente è arrivato il momento di rispondere a quella domanda quindi immagino che accontenterò un bel po di persone questa settimana anche se probabilmente la risposta non vi piacerà questo è comunque un video del master kai prima di continuare però una comunicazione di servizio l'ho già detto nel video della settimana scorsa ma ripetita juvent io sarò a lucca l'uno il 2 e il 3 di novembre e se riesco venerdì volevo anche organizzare un incontro con la community ci stiamo organizzando nei social non qui in video quindi in descrizione trovate i link se volete partecipare siete interessati lì ci sono luoghi e date precisi a lucca verranno anche distribuite le copie di scrivi la tua avventura il libro che ho scritto con mauro longo e chi le ha ordinate per essere ritirate a mano direttamente a lucca potrà venire a prenderle o da me o da lui ma il grosso delle copie saranno al nel padiglione san martino nella sezione look for fantasy lo stand di plesio editore se avete già prenotato andate lì date il nome ve la daranno direttamente tra l'altro nel momento in cui registro non so quante copie possano essere ancora disponibili però vi lascio in descrizione anche il link se non l'avete ancora prenotata e volete prenotarla fino a esaurimento saranno disponibili e siete ancora in tempo per dire che la volete venire a prendere a lucca se no ve la fate spedire a casa normalmente tra l'altro io e mauro ci stiamo organizzando anche per una conferenza lì a lucca anche se in questo momento non so dirvi le date precise neanche di quelle si luca è molto meno organizzata di quello che sembra comunque se qualcuno magari vuole venire a ritirare la copia del libro lì o vuole venire a conferenza vi rimando anche per quello sui social lì ci sono scritte tutte le date appena le sappiamo bene detto questo torniamo a noi e andiamo a vedere l'argomento di questa settimana cioè come mettere insieme il party che cosa si intenda quando si parla di gruppo dei personaggi giocanti o parti dei giocatori lo abbiamo già visto nello scorso video ve lo lascio linkato qua in alto se non l'avete visto andato a recuperare altrimenti rischiate di non riuscire a seguire bene quello che diremo questa settimana però non starò a ripetermi ora uno dei primi problemi che un gruppo di gioco si trova ad affrontare per la coerenza interna la sua storia probabilmente proprio nella prima sessione se non ancora prima è giustificare all'interno del mondo di gioco la presenza appunto del party degli avventurieri perché un gruppo di persone si è ritrovato e ha deciso di partire per andare all'avventura faccio che deludervi fin da subito una risposta universale non esiste ogni storia dovrà avere una sua motivazione e quello che ha perfettamente senso all'interno di una storia potrebbe non averne affatto all'interno di un'altra molte ambientazioni scritte ad uso commerciale contengono già al loro interno tutta una serie di giustificazioni specifiche per quel mondo di gioco su perché gli eroi sono chiamati a fare quello che devono fare per quanto riguarda le ambientazioni che scriverete voi o le storie ambientate in altre ambientazioni ma che se ne vogliono distaccare questa settimana diciamo che cercherò di fornirvi un elenco di quelli che sono le giustificazioni più generiche e più facilmente adattabili la motivazione più comune e più diretta è quella che ci sia uno scopo o un elemento del mondo di gioco che abbia portato il party a radunarsi li abbia costretti assieme può essere qualcosa che voi come master comunicate ai giocatori in fase di creazione dei personaggi o qualcosa che i giocatori discutono tra di loro e poi comunicano a voi in fase di creazione della quest come arrivate a definire quale sia questo scopo o elemento comune non è importante normalmente questo tipo di giustificazione ha senso solo se già di per sé la quest che avete in mente è orientata verso uno specifico obiettivo che coincida con l'evento lo scopo dei personaggi una quest in cui già dalle primissime sessioni i personaggi stiano lavorando al completamento dell'intera campagna e abbiano già chiaro quale sia l'evento finale che loro devono andare a giocare ovviamente quale sia questo elemento e quale sia l'obiettivo della vostra campagna o anche dello specifico arco iniziale della campagna dipende dai temi che avete intenzione di trattare nella vostra storia i personaggi potrebbero essere i discendenti di una precedente generazione di eroi che aveva sconfitto il signore del male ma ora che il signore del male è tornato loro dovranno farsi avanti imbracciare le armi i loro avi e tornare a sconfiggerlo o potrebbero semplicemente essere gli unici in grado di portare a termine un determinato incarico perché dotati di poteri speciali che siano effettivamente dei poteri paranormali o poteri magici o semplicemente che siano gli unici abbastanza addestrati e determinati da poter portare a termine questa missione il lato negativo di questo metodo è che va a incidere in maniera pesante su quella che è la libertà dei giocatori in fase di creazione del loro personaggio dato che una volta deciso quale sarà questo scopo indipendentemente da come venga poi deciso tutti dovranno attenersi a quello specifico elemento e i loro personaggi dovranno essere costruiti con quello specifico elemento in testa e poi durante il gioco vero e proprio se l'intera campagna ruota attorno a lo scopo finale dei personaggi la libertà di scelta da parte dei giocatori sarà sempre limitata a qualcosa che abbia a che fare con l'obiettivo finale della campagna in molti casi e per molti giocatori questo non è un problema però è qualcosa di cui bisogna tenere conto quasi altrettanto diffusa probabilmente scontata ma che lascia molta più libertà di azione ai giocatori nella fase di creazione e giustificare il raduno del party con la volontà di un agente esterno normalmente chiamato il mecenate il mecenate sarà un singolo png o anche un'intera organizzazione all'interno del mondo di gioco comunque un'entità terza al di là dei giocatori che ha la possibilità o l'autorità di chiamare i giocatori unire i loro personaggi e poi mandarli a fare la missione come nel caso precedente questo tipo di giustificazione funziona bene solo se la campagna poi un obiettivo chiaro che sarà poi l'obiettivo per cui il mecenate ha radunato il party dei giocatori non deve necessariamente essere orientato solo a quello il mecenate potrebbe mandare mandare il party prima a fare altre missioni per valutarne le effettive abilità cosa del genere ma da un certo punto della campagna in avanti l'obiettivo del mecenate diventerà l'obiettivo di tutte le sessioni di gioco anche in questo caso chi sia il mecenate cosa lo spinga a radunare i personaggi dipende dai temi della campagna potrebbe essere il re buono che ha chiamato i più potenti eroi del regno per sconfiggere un potente male che si sta avvicinando potrebbe essere la classica mega corporazione del cyberpunk che ha chiamato i migliori cyberpunk sulla piazza perché vuole un lavoro fatto bene fatto in parete e soprattutto senza troppe domande non necessariamente comunque il mecenate deve apparire come specifico png all'interno della quest il rapporto potrebbe essere anche molto più labile dopo che scoppiata la guerra con gli invasori alieni tutte le persone abili alle armi sono state arruolate e mandate al fronte il gruppo di giocatori è uno di queste squadre di reclute che vengono mandate a combattere la battaglia il loro mecenate il comando dell'esercito delle forze terrestri magari non appare mai direttamente sarà semplicemente la giustificazione in fiction del perché i giocatori devono fare la missione perché è arrivato un ordine dal comando che gli obbligo a farlo in questo caso la libertà di creazione del personaggio per i giocatori è maggiore perché l'unica cosa in comune che devono avere tra di loro è la volontà di lavorare per il mercenate o l'incapacità di evitare di farlo ma nella stessa squadra potrebbe coesistere il personaggio idealista che è veramente convinto che la missione del mecenate sia importante assieme al mercenario cinico a cui non interessa assolutamente nulla ma è lì perché sta venendo pagato per fare quella missione il motivo per cui il party si è radunato potrebbe non decidere né dalla loro volontà né dalla volontà di un possibile magnate o mecenate esterno ma semplicemente dalle macchinazioni del fatto i personaggi erano semplicemente tutti assieme nello stesso posto quando un evento fortuito o catastrofico li ha catapultati all'interno di una situazione inaspettata e adesso si trovano nel bene nel male costretti a collaborare tra di loro per uscirne a risolverla durante il loro viaggio dalla terra una delle sue colonie l'astronave su cui viaggiano i giocatori ha un malfunzionamento e precipita su un pianeta alieno sconosciuto magari abitato anche da una popolazione locale non particolarmente favorevole all'arrivo dei naufraghi i passeggeri sopravvissuti tra cui ovviamente i personaggi ai giocatori dovranno collaborare tra di loro per riparare l'astronave andarsene dal pianeta o magari mentre i giocatori i loro personaggi erano per vari motivi tutti presenti dentro o vicino al palazzo del municipio c'è stato un attentato e loro sono le ultime persone riprese dalle telecamere di sicurezza ora la polizia è convinta che siano loro gli attentatori e quindi dovranno mettersi assieme collaborare per fuggire dalle forze dell'ordine e contemporaneamente trovare i veri colpevoli per scagionarsi questa tecnica del forzare i personaggi giocanti assieme con un evento imprevisto è particolarmente utilizzata nell'OSR ma non so un esperto in materia però vi lascio qui sotto nei commenti un articolo scritto da Manuel Colleoni che ha parlato proprio nello specifico di questo nell'OSR chiamata la tecnica del setaccio o la tecnica dell'imbuto comunque andate a darci un'occhiata ne parla nello specifico per quel tipo di gioco non necessariamente il motivo per cui il party si sia messo assieme originariamente è importante o lo è abbastanza da giustificare che venga inserito testualmente nella quest semplicemente il party già si conosceva già lavorato assieme e per quanto questa sia la prima avventura dei giocatori che li interpretano non è la prima volta che i personaggi collaborano tra di loro la motivazione per cui i personaggi si sono riuniti tra di loro la prima volta potrebbe essere concordata tra i giocatori o imposta dal master o anche tirata a caso semplicemente qualunque essa sia non è così importante per la storia che deve venire giocata e quindi non ha senso che quella scena appaia all'interno della quest magari sono un gruppo di induriti veterani di mille battaglie che adesso sono stati assegnati su un nuovo fronte per una nuova missione sono un gruppo di avventurieri fantasy di lungo corso che adesso hanno deciso di spostarsi in una nuova zona preceduti alla loro fama in realtà non è così importante questo però potrebbe venire a causare un problema all'interno per via della disconnessione che ci sarà tra l'esperienza dei giocatori veri e propri e quella che è la vita dei loro personaggi se si presuppone che i personaggi si conoscano e abbiano già lavorato assieme da molto tempo dovrebbe essere scontato che non solo siano perfettamente coscienti delle capacità gli uni degli altri ma che conoscano anche fatti e aneddoti personali dei loro compagni cosa che potrebbe risultare estremamente difficile se i giocatori non si sono preparati nulla a riguardo o magari i giocatori proprio non si conoscono tra di loro perché questa potrebbe essere la prima volta che giocano assieme e magari per qualcuno di loro anche proprio la prima volta che gioca di ruolo quindi loro sarebbero chiamati a interpretare un personaggio che conosce a mena dito la vita e le abilità degli altri personaggi del party mentre nella realtà loro come giocatori non hanno idea di chi siano gli altri personaggi né di che cosa siano in grado di fare e questo potrebbe durante il corso delle sessioni causare dei momenti di interruzione del gioco proprio perché i giocatori non sanno come dovrebbero comportarsi in una determinata situazione per questo motivo probabilmente anche se questa è una delle maniere più veloci per introdurre il party e lascia relativamente abbastanza libertà a tutti sarebbe meglio lasciarla solo per quei gruppi i cui giocatori effettivamente si conoscono hanno già giocato assieme da anni quindi anche nella vita sono coscienti di qual è lo stile degli altri quali sono le loro capacità e che magari hanno già giocato la scena della riunione del party un sacco di volte quindi non hanno problemi a perdersela ma giocatori che non si conoscono tra i loro o giocatori che non hanno mai giocato il ruolo prima dovrebbero avere la possibilità di vivere all'interno della quest l'incontro tra i loro personaggi per facilitarli in medesimazione non necessariamente tutte queste motivazioni che abbiamo detto devono essere mutualmente esclusive anzi potrebbero essere usate insieme a gruppi per garantire contemporaneamente sia che i giocatori abbiano la massima libertà di scelta per i loro personaggi ma anche che ci sia un obiettivo forte fin dall'inizio che li tenga focalizzati sulla missione il pacifico villaggio di confine del regno del re buono è stato attaccato dalle forze del malvagio barone in quel momento nella locanda del villaggio era presente un paladino della guardia reale che era giunto in città per portare delle lettere al sindaco due nani fratelli avventurieri da più di 50 anni che erano lì a riposarsi al ritorno della spedizione di un dungeon e una ragazzina la figlia di un contadino locale a cui lo shock per l'attacco ha causato un risveglio di abilità draconiche immannate nella sua linea familiare non ha mai dimenticate quindi ha guadagnato poteri da stregone senza sapere neanche lei cosa gli sta succedendo tecnicamente il party è stato radunato per un motivo fortuito non avevano alcuna relazione tra di loro se non quella che erano tutti dentro la locanda quanto qualcuno ha cercato di ammazzarli ma magari dopo che i personaggi hanno respinto l'attacco il paladino andrà a parlare con re e il re deciderà che data la loro bravura nel risolvere la situazione vuole assoldarli tutti in una squadra speciale per guidare il contrattacco verso il malvagio barone diventando così il mecenate per i parti un incipit del genere potrebbe permettere di giustificare i vari personaggi e magari anche le varie relazioni tra i giocatori i due fratelli nani che vanno all'avventura assieme a 50 anni potrebbero effettivamente essere due giocatori che si conoscono che giocano assieme da un sacco di tempo ma il paladino potrebbe essere un giocatore nuovo che non conosce non è abituato e così il suo personaggio sarà un estraneo per i personaggi degli altri come lui lo è nella vita reale e a questo punto magari anche la giovane stregonea che non ha neanche ben capito di sta succedendo potrebbe effettivamente essere una giocatrice che non ha mai giocato prima e quindi trasmetta questa sua difficoltà di rendersi conto esattamente della situazione al suo stesso personaggio giustificandone l'inesperienza tutto questo discorso ha comunque senso se e solo se effettivamente ha qualcuno al tavolo interessi perché il party collabora e perché il party si è formato ma potrebbe semplicemente darsi che a nessuno in realtà interessi esplorare questo aspetto del gioco di ruolo e che quindi basti la mera meta giustificazione basilare il party si è formato perché questo è un gioco di ruolo e i giochi di ruolo si giocano in squadra questo è uno dei classici esempi di meta gioco positivo ne avevamo parlato in un video qualche anno fa ma semplicemente il gioco di ruolo prevede che i giocatori preparino dei personaggi che poi questi personaggi formino una squadra che vada all'avventura a risolvere i misteri quella che è e quindi i personaggi abbiano fatto esattamente questo senza che ci sia effettivamente una gestificazione in fiction per le azioni dei loro personaggi potenzialmente questa è la giustificazione più pigra però offre anche dei notevoli vantaggi principalmente quelli che non richiede assolutamente nessun tempo e nessun ragionamento da parte del party normalmente potrebbe non essere un problema ma in una situazione in cui il tempo di gioco è estremamente rilevante potrebbe invece essere una soluzione ottima immaginatevi di dover tenere magari una one shot di poche sessioni per provare un regolamento o anche dover dare la dimostrazione di un gioco di ruolo un tavolo durante la fiera con un tempo di gioco e non si calcola in mesi o anni ma in letteralmente ore anche dedicare solo mezz'ora a mettersi d'accordo su chi sono i personaggi e perché vanno all'avventura assieme potrebbe essere una quantità di tempo del tutto inaccettabile questo è anche il metodo che teoricamente lascia più libertà possibile ai giocatori dato che potenzialmente possono portare qualunque personaggio loro vogliano fin tanto che tutti sono disposti a ignorare possibili incongruenze potrebbe esserci il paladino legale buono che collabora insieme al necromante caotico e malvagio e fin tanto che nessuno dice testualmente questa cosa è strana a tutti sta bene ovviamente ha senso solo se effettivamente a tutti al tavolo sta bene siano più interessati a portare avanti le avventure dei loro personaggi che a creare qualcosa di effettivamente coerente all'interno del mondo di gioco questi sono ovviamente tutta una serie di esempi generici e non vanno assolutamente a coprire tutte le situazioni anzi una specifica quest che riguarda una specifica storia all'interno di uno specifico mondo di gioco potrebbe richiedere una specifica giustificazione e magari l'ambientazione che state usando per via della sua particolarità di tema o di scopo potrebbe richiedere qualcosa che in quel caso avrebbe perfettamente senso e non l'avrebbe in nessun altro diciamo comunque che questo dovrebbe servirvi una base abbastanza generica nel caso vi troviate a essere indecisi su come far iniziare il party dei vostri giocatori a questo punto però la parola sta a voi i master che hanno più esperienza scrivono nei commenti quali sono i metodi che loro hanno usato magari anche andando a scendere più nei dettagli così per dare una lista più lunga di possibilità tra cui scegliere e ovviamente come sempre scrivete anche eventuali domande dubbio perplessità comunque diciamo che per questo video è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete lo creduto a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche quando esco i nuovi video se le notifiche i nuovi video non vi vengono notificate sì lo so è un problema anche in questa stagione comunque in descrizione trovate i link del server di disco del gruppo i telegram dove metto io i link dei video manualmente e dove si raduna anche il resto della community del master cae per il resto io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video